Ciao e benvenuto o bentornato sul nostro canale. Il mio nome, per chi non mi conoscesse, è Alessandro Meola e svolgo la bellissima professione di agente immobiliare da oltre 20 anni. In questo canale metto al tuo servizio la mia esperienza per aiutarti a vivere al meglio l'acquisto o la vendita della tua casa. E oggi parleremo proprio dell'acquisto della prima casa. Vuoi acquistare una casa tutta tua? Magari come questa, oppure come quest'altra, o come quest'altra ancora. Ognuno di noi ha la casa dei propri sogni. Se stai guardando questo video, probabilmente è proprio perché vuoi acquistarne una tua, usufruendo dell'agevolazione a prima casa. L'argomento è un pochino complesso, ma non ti devi preoccupare. Ho cercato di semplificare i concetti. E ti prometto inoltre che non ti addormenterai guardando questo video. Ecco come faremo. Allora, rispondi alle 5 domande che ti farò di seguito. Se le risposte saranno tutte corrette, allora a quel punto saprai di poter usufruire dell'agevolazione a prima casa. Ti chiedo un'ultima cosa prima di iniziare. Se puoi, armati di carta e penna, di modo che potrai segnarti le tue risposte. Bene, iniziamo. Prima domanda. Hai studiato? Ti senti preparato? Ottimo, iniziamo veramente. La casa che vuoi acquistare si trova nel comune dove sei residente? La risposta corretta è sì. Nel caso in cui avessi risposto no, non ti devi preoccupare. Puoi sempre recuperare con la prossima domanda. Domanda numero 2. Mi raccomando, concentrati. Se la casa che intendi acquistare non si trovasse nel comune in cui risiedi, saresti disposto a portare la residenza in quel comune entro 18 mesi dall'acquisto? La risposta corretta è sì. E nel caso in cui tu avessi risposto no alla prima domanda, non ti preoccupare, perché se tu non risiedi nel comune o vi intendi acquistare, potrai sempre portarvi la residenza entro 18 mesi. Domanda numero 3. Sei titolare esclusivo oppure in comunione con tuo marito o con tua moglie di uno dei diritti di abitazione, proprietà, uso o usufrutto di un'altra abitazione che si trova nel comune o vi intendi acquistare? La risposta giusta in questo caso è no. Domanda numero 4. Sei titolare, anche solo per quote o in comunione legale, ma su tutto il territorio nazionale, di uno dei diritti di abitazione, uso, usufrutto, proprietà o nuda proprietà di un'abitazione acquistata a suo tempo con le agevolazioni prima casa? Anche in questo caso la risposta corretta è no. Domanda numero 5. Siamo all'ultima domanda e a questo punto tutto potrebbe dipendere dalla tua risposta. L'immobile che intendi acquistare è un immobile in categoria di lusso? Risulta censito il catastro nelle categorie A1, A8 o A9? La risposta esatta è no. Bene, il quiz si è concluso. Spero che tu abbia risposto esattamente a tutte le domande. Comunque fammelo sapere nei commenti. Ora una curiosità, così rispondo anche alla domanda che mi è stata fatta in precedenza. Alessandro, qual è la differenza tra le imposte che si pagano con e senza agevolazione prima casa? Nel caso in cui il proprietario sia un privato e non un'impresa o una società, l'imposta di registro ordinaria è pari al 9% sul valore catastale. Ad esempio, se il valore catastale fosse di 100.000 euro, l'imposta di registro sarebbe pari a 9.000 euro. Usufruendo invece dell'agevolazione prima casa, l'imposta di registro si riduce al 2%, con un minimo comunque di 1.000 euro. E nel caso precedente, in cui il valore catastale era di 100.000 euro, a questo punto sarebbe pari a 2.000 euro. Nel caso di un acquisto tramite società costruttrice, l'imposta di registro sarà pari a 200 euro e sarà fissa. La vendita sarà soggetta invece a IVA e sarà pari al 4% nel caso in cui si possa godere dell'agevolazione prima casa e 10% nel caso di un acquisto senza agevolazione. Quest'imposta sarà calcolata non sul valore catastale, ma sul prezzo patuito con l'impresa. Spero di aver risposto alla domanda che mi è stata fatta. Prima di salutarvi, un breve riepilogo. Per poter usufruire dell'agevolazione prima casa, l'immobile che intende acquistare deve trovarsi nel comune dove sei residente. Inoltre, non dovrai essere proprietario esclusivo o in comunione con il coniuge di uno dei diritti di proprietà, abitazione, uso o usufrutto di un altro immobile adibito ad abitazione che si trovi nel comune dove intendi acquistare. In ogni caso, non dovrai essere titolare, anche solo per quote o in comunione legale, di uno dei diritti di uso, abitazione, proprietà, usufrutto o nuda proprietà di un altro immobile acquistato con l'agevolazione prima casa. E questo vale su tutto il territorio nazionale. Ultima cosa, l'immobile non dovrà essere un immobile di lusso e quindi non dovrà essere accatastato nelle categorie A1, A8 o A9. Bene, siamo arrivati alla fine del video e spero di averti chiarito le idee su questo argomento. Pollice in su se lo hai trovato utile. Se hai domande o se vuoi approfondire l'argomento, scrivilo nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale per sostenerci. Porteremo così nuovi contenuti per rendere più semplici argomenti complessi. Inoltre, nel prossimo video andrò a rispondere a tutte le domande che mi farete sull'argomento prima casa. Volete mica perdervelo? E noi ci vediamo al prossimo video per l'age immobiliare liberi di essere unici.